Ciao, ragazzi! Guardate qui! Wow, Cap! Sei stato grandioso! Sembra proprio una delle acrobazie del circo! Sì, sei stato fenomenale! Voglio provare anche io! Ok, ora devo solo girare... Spooky, ci devi lavorare! Signori e signore! È il momento che tutti stavate aspettando! È l'incredibile triplo salto mortale! Cap, coraggio, salta! Hai troppo paura per saltare? Non è assolutamente vero! Spooky! Aiuto! Aiuto! Spooky! Aiuto! Oh, santo cielo! Spooky sta per cadere dal testo! Qualcuno mi faccia scendere! Che cosa facciamo? Spooky sta per cadere! Dobbiamo chiamare la squadra di soccorso! Oh, è davvero orribile! Squadra di soccorso! Jean! Spooky è in pericolo! Sta tranquillo e spiegami cosa è successo! Evergenza! Evergenza! Spooky si trova sul tetto del cantiere tra la dodicesima e la jet! Squadra di soccorso e entrata in razione! Ricevuto! Ah! Go! Siamo! No, 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 no! Spooky! Polly, fatemi scendere di qui! Spooky, va tutto bene. Ci pensiamo noi a farti scendere. Amber, puoi andare a prendere l'airbag? Certo! Ellie, lega la cintura di sicurezza a Spooky. Roy, ci servirà anche la gru. Ricevuto! Spooky, non temere. Abbiamo quasi finito. Siamo pronti, Polly! Bene. Roy, usa la tua gru. D'accordo. Ellie! Ce ne occupiamo noi. Tu pensa a Spooky. Spooky, non aver paura. Roy, ora tocca a te. Lo puoi calare giù dal tetto. Ricevuto! Grazie, ragazzi. Grazie. Ragazzi, guardatemi. Guardate, sto volando. Spooky! Spooky, smettila di giocare. È pericoloso. Sì, scusate. Ora sono al sicuro. Cosa? Stava cercando di rifare l'acrobazia del circo? Sì. Spooky, mi avevi detto che non avresti provato a fare quelle pericolose. Lo so, ma ogni volta che ne completavo una, ne volevo subito fare una più complicata. Non sapevamo che sarebbe stato così pericoloso. Sì. Come sarebbe a dire? Quelle auto si esercitano per anni. Non potete pensare di riuscire a imparare un'acrobazia in un solo giorno. Ora lo sappiamo. Mi dispiace, non succederà mai più.